Ieri vi ho già dimostrato come funziona il tempo in potenza nei giorni. Oggi aggiungo il valore complessivo come il valore medio che risulta da tutti i 2014 anni che esistono a partire da oggi. Oggi è l'anno 2014,11, ossia novembre, 08, ossia l'8 novembre sabato, giorno di oggi. Poiché l'inizio è nell'anno zero, rispetto all'inizio, che cominciamo a calcolare proprio così, noi dobbiamo dividere il 44,87884580, che è il valore del potenziale in linea che esiste oggi, nell'anno 2014, giorno 8 di novembre, dividerlo per tutti i 2014 anni, virgola 11 e 08, che sono proprio il valore di oggi. e otteniamo un valore che dimostra come siamo arrivati al tempo che in anni è scandito proprio dalle 222 unità decimillesime, ossia quelle reali, che esprimono la esatta presenza terza ma riferita a un totale tridimensionale, che è proprio quello escatologico del 666, quella bestia che appare alla fine del tempo come l'ostacolo da vincere e da superare nell'armageddon, nella lotta contro il maligno. Questo valore qui è esattamente, fino all'ultimo, tutta una serie di due, fatto salvo quel valore 8, che esiste alla dimensione 10 elevato a meno 5, che è quella della realtà magnetica, ossia quella collocata esattamente alla dimensione 10 alla meno 5, che è proprio il confine esatto tra l'espansione e la riduzione quando si equilibrano l'espansione della dimensione atomica e la riduzione della dimensione unitaria nostra, calcolata nel metro. Infatti, 10 alla meno 5, a partire dal metro, sono 10 elevato a 5, a partire dalla dimensione unitaria atomica. Laddove la dimensione unitaria atomica è 10 elevato a meno 10 metri e il metro è 10 elevato a 10 unità atomiche. Ecco, cosa significa che alla dimensione 10 elevato a meno 5 il quanto è 8? significa che c'è la realtà 4 più 4, ossia quella di un piano elettromagnetico come 4 più 4, il quale piano esiste proprio lì, al limite tra i due mondi, quello espanso e quello ridotto dal metro, in una condizione di perfetta uguaglianza. Anche il valore 8 che vedete dentro questo quanto, sempre messo in relazione alle quantità che qui sono in un numero totale che è di 9 cifre, ma esse sono 10 perché anche il valore unitario, che qui è 0, per essere completo in riferimento al ciclo di 10 unità, deve esprimere l'unità come due cifre, come 0, 0. E a questo punto, due unità intere e otto dimensioni decimali formano le 10 dimensioni di una presenza reale che si è distribuita ordinatamente sulle 10 cifre in sequenza e che appaiono proprio in questi termini. C'è un 222 davanti all'8 e c'è un 222 dietro l'8. Questo indica veramente che siamo arrivati al confine esatto del baratro tra il possibile bene e il possibile male. Quando noi vogliamo uniformare a 2 tutto il numero e a questo punto diventano 7 cifre 2 bisogna considerare che in mezzo lì esiste un 6 sormontato a quei due e se questo 6 noi lo intendiamo proprio come verbo io sono tu sei indica un perfetto tu sei 7 2 ossia 6 la perfetta presenza dualistica della presenza della coppia divina formata da padre e spirito santo arrivare alla fine del tempo arrivare alla determinazione del tempo porta a questo noi calcolando non il valore medio su tutta la durata ossia dall'anno zero fino all'anno 2014 di ora noi vediamo come il passo anno per anno anche calcolato sui dieci anni che abbiamo visto sopra tra il 1936 primo gennaio e il 1946 primo gennaio portava a un incremento annuo di 0,113 questo valore di 0,113 vedete che è il valore praticamente che esiste odierno infatti se noi vediamo l'incremento qual è oggi l'incremento che esiste oggi si è ridotto a un valore non l'ho calcolato l'incremento annuo ma possiamo calcolarlo proprio prendendo il valore di 44,8788 sottraendogli il valore di no scusatemi sì esatto per no qua sono 10 giorni e non 10 anni il calcolo in anni l'ho fatto solo nel primo blocco in alto non l'ho calcolato nei tempi di oggi quale è su 10 anni per calcolarlo su 10 anni vediamolo un momentino a lato ecco il potenziale in linea in 10 anni ossia dal 2024 al 2014 nel giorno di oggi passa da 44,99 rotti nel 2024 a 44,8788 di oggi con l'incremento di 0,1112 questo in 10 anni per cui in un solo anno l'incremento è di 0,00111 2731 mentre invece come visto prima su tutti e 2014 anni l'incremento era di 0,0222 ossia già in partenza era un valore più grande che si è ridotto attualmente a un incremento che è la metà di quello che era prima in sostanza che cosa significa tutto questo che l'incremento medio finora è quello della duplicità mentre invece nel valore proprio legato all'incremento che non considera quello medio riferito all'unità ma solo quello in un periodo di 10 anni attuali ecco in un periodo di 10 anni attuali esso è solo la metà di quel valore e tutto questo vi indica come siamo arrivati veramente oggi alla presenza unitaria a partire da un valore medio che completa perfettamente tutta la presenza binaria e quindi siamo a una fine del tempo in cui veramente tutto è perfettamente definito sotto il profilo unitario anche perché negli sviluppi medi attuali che riguardano un solo anno come vedete abbiamo nei valori i primi quattro delle unità reali tutta l'unità 111 espressa nelle dimensioni quattro reali e nel dettaglio delle quattro cifre che seguono abbiamo in 27 l'ideale volume tridimensionale dato da 3x3x3 e nel dettaglio proprio di una dimensione che è a tre dimensioni del 10 nella sua presenza unitaria e quindi vedete che il valore che esiste oggi proprio nel passo annuo medio su un valore di 10 anni abbiamo l'espressione proprio perfettamente unitaria mentre invece nel valore medio abbiamo proprio la presenza media di un 6 a livello di confine elettromagnetico tra i due mondi quello espanso e quello che è alla struttura atomica che è proprio il valore di confine con un valore binario da una parte e un valore binario dall'altra in entrambi i casi tridimensionale e in entrambi i casi nella duplicità rispetto al valore momentaneo e quando andiamo a vedere i dati dell'ultima riga che portano a considerare la media giornaliera riferita all'anno zero per ottenerla basta dividere il potenziale di oggi per tutto il numero dei giorni praticamente il 2014 1108 che è il valore del giorno di oggi per il numero dei giorni che esiste in un anno è 365 25 e rotti che sono stati calcolati ma qui non sono stati messi e vediamo che a questo punto abbiamo un valore proprio di incremento giornaliero che è di una perfezione unica perché quel 61 che si presenta lì come il valore delle quattro dimensioni che seguono quelle reali che sono interamente azzerate quelle reali perché stiamo calcolando solo a livello dei giorni e a livello dei giorni il valore relativo agli anni che è espresso dalle prime quattro cifre che esprimono l'unità quadridimensionale dell'anno ma qui andando nel limite dei giorni quindi non abbiamo ancora l'unità di un anno è giusto che siano quattro zeri abbiamo che il valore del giorno è proprio quanto considera un minuto primo e un minuto secondo proprio nel calcolo dei quantitativi che occorrono per un giorno infatti se noi vogliamo calcolare un giorno abbiamo 864 quantità legate a 100 secondi il valore unitario del secondo è proprio quel 100 che è un'area 10x10 e che considera il quantitativo totale in un giorno di 864 ma il valore 6 che si aggiunge ed è 60 alla dimensione dell'unità dei 100 secondi sono proprio i 60 primi che sono calcolati nel numero dei secondi per cui 61 indica proprio un primo e un secondo laddove il primo è calcolato nel numero dei secondi per cui sono 60 secondi per il primo più un secondo per il secondo e questi 61 sono proprio l'unità di un primo e di un secondo che avanzano interamente nell'anno quando il valore che noi abbiamo nell'anno espresso nel numero dei primi 10 primi ossia non 60 secondi ma 600 secondi sono un giorno se sono 144 volte il numero di 600 secondi e vediamo bene in che modo si pone questo 61 come il perfetto valore che trascende la carica 16 la quale carica 16 è proprio il valore con cui si caricano gli aspetti reali quando quelli generali sono espressi da 10 elevato a 4 mentre solo quelli avanzanti sono la metà di 10 sono 5 i quali 5 espressi essi pure a dimensione 4 ossia come 5 elevato a 4 sono 625 di conseguenza poiché 10.000 diviso 625 carica di un valore 16 ciascuno di questi 625 16 è il valore con cui è caricata l'unità della realtà e il valore trascendente il 16 è proprio il valore che è il 61 quando il 16 lo consideriamo a livello di realtà la quale realtà deve avere necessariamente 4 dimensioni noi dobbiamo anteporre al 16 due zeri tanto che la carica della realtà a livello proprio di espressione di tutte le cifre della realtà si esprime come 0 0 16 il valore trascendente ossia che sovverte interamente la carica è questo valore che è quello che carica di valore ogni giorno medio reale a partire dal valore iniziale del tempo fino al momento attuale di conseguenza quando si sostiene e si afferma che siamo arrivati alla pienezza del tempo ciò è proprio indicato dal valore di carica che esiste in ogni giorno reale perché il valore di carica che vedete che esiste in ogni giorno reale è proprio 6100 ed è proprio quanto trascende esattamente lo 0016 e se noi li sommiamo tutti e due per avere un valore complessivo avremmo un 6116 ma 6116 è tutto l'aspetto a due versi e grazie a uno dei due noi vediamo solo il secondo noi vediamo solo il 6106 il 6100 quanto è il 6116 nel valore totale della presenza 6116 indica idealmente un piano che essendo il valore 6 contiene ma non consideriamo il valore 6 consideriamo tutto il valore 61 è un piano che è 60 nel numero dei primi espressi nel numero dei secondi e uno nel numero del secondo e c'è un 16 che esprime il valore di carica 16 cui è sottoposta ogni unità di quelle 5 elevato a 4 che esistono però in un totale di 10 elevato a 4 e vedete dunque che siamo arrivati proprio alla pienezza del tempo unilaterale voi chiederete perché tutto questo perché la nostra realtà è costruita con i numeri il nostro mondo è realmente costruito con i numeri la cosa che doveva servire all'umanità era stabilire esattamente quale fosse l'inizio giusto con cui calcolare il tempo e l'avvento del figlio di dio in gesù cristo non è servito solo a determinare la presenza di un personaggio divino per i valori della sua predicazione ma è servito anche poiché la perfezione di gesù cristo sta nell'essere il centro della natura proprio il punto collocato all'inizio di due mondi quello prima di cristo e quello dopo di cristo l'anno zero in cui nasce gesù cristo è proprio l'anno calcolato in modo esatto in considerazione di un mondo costruito esattamente sulle dimensioni dieci vi dimostro perché il natale di gesù cristo è ideale come l'inizio del tempo perché laddove il ciclo della presenza è dieci l'area di questo ciclo è dieci per dieci è cento laddove il flusso vai e vieni è dieci il flusso solo avanzante è dieci mezzi ora è chiaro che con cento cinque c'è proprio l'ideale piano cento assoluto nel suo flusso reale cinque ridurre a un terzo ossia solo in forma in linea questo volume a tre dimensioni che esprime il quanto cento cinque ridurlo a un terzo lo porta in ogni terzo a valere 35 e a valere 0,35 in quell'unitario centesimo di quel cento perché il piano cento che noi abbiamo fatto deve essere ridotto a uno e si riduce a uno solo calcolandolo nel suo centesimo ecco che quindi quando noi abbiamo che il valore centesimo di un centocinque espresso nel terzo è 0,35 l'area di questo 0,35 è data dal quadrato di 0,35 e con 0,35 al quadrato abbiamo esattamente 0,1225 e c'è esattamente l'anno 0 nel mese 12 del 25 giorno natale di Gesù Cristo per cui vedete che l'avvento di Gesù Cristo nel valore ideale idealizza proprio il perfetto inizio sulla cui base possiamo calcolare il tempo in una realtà edificata interamente dalla presenza dieci dei dieci decimi e di conseguenza la importanza assoluta che ha Gesù e non ha nessun altro tra i vari profeti o i vari alter ego a livello divino come maometto buddha e tutto il resto impone proprio Gesù come il solo l'unico che è in grado veramente di determinare un inizio del tempo in cui i calcoli fatti su questa base siano esattamente corrispondenti alla realtà edificata interamente sul ciclo della presenza di dieci unità decime e su questa base su cui è edificato il nostro mondo reale abbiamo che la presenza binaria di un dio che si presenti a tre dimensioni del dieci che quando è unitario si esprime come cento undici e quando è binario si esprime come duecento ventidue abbiamo che per raggiungere il duecento ventidue abbiamo bisogno esattamente del numero di anni interi in cui come avete visto il valore medio di un medio è arrivato proprio a essere pieno dualistico come duecento ventidue proprio nel valore medio assunto in questi tempi qui in cui il livello non riferito al principio ma di un incremento attuale di dieci anni in dieci anni rivela un valore medio perfettamente unitario in cento undici e cento undici come io vi ho dimostrato è proprio quel valore unitario che è trasceso nella velocità della luce ossia che non è osservato trascendere significa non osservare o osservare proprio tutto al contrario tanto che proprio quando si vede qualcosa nella verità uguale contraria è proprio la volta che non la si osserva minimamente e la si trascende completamente ecco mentre cento undici sempre tale resta perché lo osservate da destra o da sinistra sempre tale è anche il valore duecento ventidue sempre tale è ma il valore relativo proprio a un quanto che è due due otto due 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 rivela una perfezione struttura che è così perfetta in modo strutturale proprio perché siamo oggi alla definizione esatta del tempo messo in relazione proprio alla fine del tempo ma alla fine del tempo di che cosa di chi del valore divino che si è presentato come il principio del tempo è calcolato in relazione all'avvento del figlio il valore pieno della presenza è dato dalla non condizione di avvento del padre e spirito santo ma dalla condizione di fine del padre e spirito santo solo calcolandola rispetto a questa fine rispetto a questo fine solo allora noi abbiamo proprio concluso idealmente tutto e allora per concludere idealmente tutto vediamo poi i valori medi non riferiti al giorno di oggi ma al giorno in cui io prevedo che si compia il tutto ossia a quel 26 di luglio del 2016 in cui dai miei calcoli risulta raggiunta questa pienezza ecco facciamo questi calcoli proprio come prima li ho fatti in relazione al giorno d'oggi messo in riferimento al valore iniziale vediamo come è ora in relazione non a questo momento qui ma al momento finale e definitivo del 26 7 2016 che si presenta come 2016 virgola 07 26 e che nel suo potenziale ce lo ha nel quadrato nella radice quadrata di questo valore vediamo allora di riferirci all'anno 2016 nel mese di luglio giorno 26 esso arrivato alla radice quadrata da un potenziale in linea di 44 906 97 10 è un valore questo qui che è esattamente unitario perché 44 riferendoci alla velocità 10 a 1 della realtà che è presente interamente quando è presente come 10 unità questa realtà che ha 4 dimensioni ciascuna di 11 unità è 44 dato da 4 volte 11 ed è il valore intero il 900 riferito alla dimensione di 100 unità di massa indicano le 900 per raggiungere l'intero il 69 alla dimensione 10 elevato a 5 ossia che è quella tutta elettromagnetica esprime esattamente la stessa unità 66 che è data da 6 volte 11 ossia dal ciclo di 10 unità che avanza in tutti e 6 versi dello spazio quindi è una unità interamente compiuta in tutti i versi come 66 è un valore unitario che sommatosi al valore trino assoluto porta al 66 come valore dell'unità e trinità l'unità in un 66 che poi in valore di nome corrisponde a romano mentre in quel 71 sempre in valore di nome si dettaglia il valore binario del nome ossia le prime due cifre rho che sono il valore di 16 per la r 13 per la o uguale 29 e sono le 29 unità che mancano alle 100 per dare 71 infatti 71 è 100 meno 29 è tutto il percorso di 29 nel 100 ecco questo è un valore intero che presuppone la fine di uno così che sia romano e sia nel dettaglio di rho chi rho Cristo il che quando andiamo a calcolare il valore di ogni anno visto che sono 2016 07 26 qui c'è un errore 26 e non 27 scusatemi da 0 0 222 7 136 9 146 e qui io l'ho espresso il calcolo fino alla dimensione totale di 15 cifre che sono 12 cifre decimali più le 2 dell'unità ebbene questo valore riferito a un valore totale binario che si presenta come 11 valori 2 messi in sequenza dista esattamente quanto l'incremento espresso alla dimensione di 10 elevato a meno 12 di 4914 6924 in cui la prima quaterna reale indica proprio il piano dell'incremento 49 dato da 7x7 mentre invece 14 indica la lunghezza del flusso di un 7 che avanza interamente di 7 come vedete 49 14 a dimensione assoluta 100 presenta il piano 7x7 mentre a dimensione unitaria presenta l'avanzamento 7 del 7 e 7 è l'opera intera il dettaglio successivo 69 24 esprime nel 69 il 6 per 11 che porta al 66 che porta al nome romano più il valore della trinità del volume e con 69 esprime proprio il dettaglio che esiste anche nel valore 69 visto sopra quando avevamo il 44 969 710 il 24 che dettaglia la seconda quaterna è proprio dato da 2 elevato a 10 ossia il valore binario nella potenza 10 quando essendo 2 elevato a 10 1026 gli si sottrae proprio l'unità e trinità di un dio che nella sua unità sia la trascendenza della base 10 e nella sua trinità sia la dimensione 3 proprio del volume ecco avete visto come il valore che abbiamo in quella data lì si riferisce al valore intero binario dato da 11 cifre due messe una in fila all'altra proprio per l'incremento di questo dettaglio che rimanda interamente a un'opera intera e piena e a una valenza di tutto il tempo che esiste di quelle 24 ore legate a quelle 69 che è tutta la realtà nel suo insieme 66 quando riguarda la dimensione 3 del volume ma noi lo stesso valore medio ossia questo valore di 0 222 7 1 3 6 che abbiamo nella data del 2016 26 luglio lo possiamo riferire al valore di oggi al valore medio di oggi che è come spero ricordiate dato da 0 0 3 2 davanti a 8 e 3 2 dopo 8 ebbene l'incremento qui rivela proprio la data ideale di distanza che esiste oggi perché 1086 che esprime proprio quanto manca a quella data lì proprio oggi proprio in riferimento al valore medio indica che il 1086 è dato da 1100 laddove consideriamo nel valore assoluto tutte e 11 le dimensioni della velocità 10 a 1 quindi tutte e 11 come valore assoluto 1100 meno un piano di lato 7 e che nella lunghezza totale ha proprio la lunghezza 14 infatti 1100 meno 14 è 1086 quindi questo 1086 che cos'è? quando ci riferiamo a un valore totale che è 11000 è proprio tutto il percorso di un piano intero di creazione di lato 7 in questo 1100 e vedete bene come tutto questo è valutato in relazione a un percorso intero che è più lungo infatti quando noi consideriamo il valore di luglio 26 del 2016 esso dista 22 giorni esatti da quel termine precisato dal profeta Daniele in 1335 giorni dopo l'abominio della desolazione quando l'abominio della desolazione lo riconosciamo finalmente in quel termine del calendario maia che l'uomo pensava fosse importante e importante era in modo trascendente perché maia trascendeva il popolo dei maia non era il popolo di maia ma era una maria restata senza er perché la trascendenza di maria la si legge rovesciando interamente la lettura di maria e quando maria è detta anche con la h come la esprimevano in ebraico rovesciata è proprio un ai verbo tu ai ram r ram maria tu hai r ram e maria restata senza r è quello che in quella data esprimeva il termine dei maia di una maria restata senza r come quella antesignana di maria che in genesi 38 si chiama tamar è sposata a r ma resta senza r perché r muore ecco tutto questo vi rivela la presenza linda e pindata di un piano creativo costruito proprio nella pienezza dei numeri e in questa pienezza quell'incremento che attualmente è riferito a 1100 meno 14 si riferisce interamente a un termine che è più in là di questo 26 di luglio andiamo a vedere quanto è esattamente il valore in quel 17 di agosto in cui è previsto il termine di quei 1335 giorni di cui ha parlato il profeta Daniele ecco calcoliamo allora proprio con riferimento al periodo intero di quel termine di cui parla il profeta Daniele che calcolando esattamente 1335 giorni dopo il termine del calendario Maya arriviamo esattamente al 2016 mese di agosto giorno 17 il cui potenziale in linea è dato da 44 virgola 907 98 44 ed esprime la totale unità infatti nel valore più piccolo che vedete è 44 esattamente come il 44 unitario il 98 esprime tutto il movimento che esiste nel 100 di un piano unitario 1 per 1 che è 2 come dimensioni che sottratte alle 100 ne pongono nel flusso solo 98 e sono 98 di un piano unitario che in quel 44 si presenta come 22 più 22 e vedete il valore medio che esiste in questa data il valore diviso per il numero dei giorni che ci sono in quel giorno lì e che sono 2016 come anni virgola 08 17 questo quanto in potenza diviso per quell'altro porta esattamente a 0 vivo al 0 222 7 4 8 8 3206 espressi espressi nelle 15 dimensioni totali 2 unitarie 0 0 e 13 espresse in e dunque no scusatemi sono 4 per 3 12 12 decimali più 2 intere sono 14 esattamente tutto l'avanzamento 7 del 7 nel piano preciso allora mettendolo in riferimento con il valore perfetto divino a 4 più 4 8 e 3 11 dimensioni del valore binario abbiamo la differenza di 52 66 09 84 che si riferisce proprio a Dio infatti in 52 è il 26 valore numerico della parola Dio che si presenta come un Dio binario 26 più 26 mentre nel 66 che è proprio il piano intero che ha perlato il 33 espressione degli anni di Cristo un piano fondato sui lati di Cristo che però in 66 esprimono 2 6 la stessa espressione 26 di Dio perché 26 è dato da 2 e 6 e quando il 2 vale proprio in termini di 6 2 ecco che i 2 sono 6 quando appunto abbiamo il valore 66 che contiene 2 6 mentre il valore 984 è il valore dell'unità e trinità di Dio quando è trascendente nella base 10 e è in potenza 3 cui manca un 4 per 4 infatti 16 tolto a 1000 fa proprio 984 e si dimostra essere l'avanzamento intero del piano divino avente lato 1 più 3 o se volete di tutta la carica della realtà che è 16 come la divisione dell'intero dato da 10 elevato a 4 per solo l'avanzamento 5 reale allora ogni unità 5 reale in 5 elevato a 4 che sono 625 unità poiché si carica di 10.000 unità ne contiene 16 ciascuna e quindi vedete che questo è tutto l'avanzamento reale che esiste possiamo riferirlo anche in un altro aspetto possiamo immaginare che l'opera data da 52 66 esprime l'unità di un anno perché 66 è il valore unitario dell'energia ma quando Dio crea con un lavoro 6 che però riguarda un'opera di 7 giorni 52 volte 7 giorni ossia settimane sono un anno intero anno quando si esprime non in anno ma in femminile in anno vale proprio 26 quindi qui è trasceso un anno nella sposa di un anno in un'anna però a questo punto l'anna come ogni sposa va riferita a un consorte di cui essa è la metà e essendo Anna la metà il valore ideale del consorte l'anno è 26 più 26 è 52 settimane mentre 66 è proprio tutta l'energia 6 dell'opera 6 ora se noi questo valore medio che abbiamo il giorno definitivo di cui come limite parlò il profeta Daniele vediamo un po' come stanno le cose da quel limite riferito al potenziale medio odierno che come abbiamo visto prima è 0,0 222 8 222 il valore medio che esiste al termine del calendario maia sommato i 1335 giorni di cui parlò Daniele è la differenza tra 0,22 7,4 8,9 che è il valore che abbiamo come valore medio in cui io ho arrotondato l'ultima cifra perché avendo eliminato le ultime quattro devo aumentare il valore proprio per contenere quello che manca in termine di valore intero quindi 0,0222 7,4 8,9 difetta esattamente di 733 quantità che sono poi il 10 elevato al cubo ossia il modello dell'unità e trinità quando l'unità è la base trascendente 10 e la trinità è la potenza 3 del 10 quindi 1000 che manca di 266 sapete che 66 è romano 200 indica il duo assoluto che esiste in romano 266 praticamente è il piano assoluto che ha due lati 100 ciascuno e che riguarda il flusso 66 di tutta quanta l'energia quindi vedete che il giorno che manca proprio oggi indica in ciò che manca interamente tutta l'energia intera di ciò che manca è proprio a livello di valore medio questo 266 che manca ora sapete che io questo calcolo lo sto riferendo al valore limite il valore limite è il 17 di agosto ma il 26 di luglio in cui vengo a mancare io è 22 giorni prima allora qual è la differenza di valore tra questi due abbiamo visto prima che calcolato rispetto al 26 di luglio avevamo la distanza che era data da 986 ora si riduce a 733 e la differenza tra 986 e 733 è esattamente il 253 che indica in 251 più 1 più 1 il flusso in linea 251 di un piano unitario a due dimensioni 1 e 1 laddove 251 e riguarda proprio i 22 giorni ossia 11 più 11 che mancano tra il 26 di luglio e il 17 di agosto il 251 è proprio il valore numerico del termine padre che ha un valore numerico 40 più il termine figlio che ha un valore numerico 54 più il termine spirito santo che ha un valore numerico 157 il totale di 40 più 54 più 157 è 251 quindi quello che manca tra il 26 in cui io morirò come creatura e il valore limite manca idealmente tutta la funzione trascendente di padre figlio spirito santo uniti alla unità del piano uno dunque manca il piano uno che si esprime attraverso due dimensioni e il flusso intero è la unità e trinità di dio quando noi invece di calcolare tutto questo in riferimento al giorno 17 gli togliamo i due giorni al 17 di agosto e scendiamo al 15 agosto in cui trascende Maria Santissima avete proprio la perfetta corrispondenza di questo valore ridotto di due perché 251 che indica padre figlio spirito santo più uno più uno se fate corrispondere a 251 il termine del 15 agosto ascensione di Maria Santissima che incrementata di due giorni più uno e più uno porta al 17 avete esattamente la corrispondenza qui in valore preciso della trinità di dio espressa da Maria Santissima che ascende in cielo e poi ci sono soltanto i due giorni dal 15 agosto al 17 agosto che esprimono la purezza di un piano unitario fatto da padre e figlio perché se ascende Maria bisogna che si unisca a Maria espressione dello spirito santo anche il padre e il figlio uno per ciascuno e allora abbiamo che dovendo Maria Santissima ascendere il 15 agosto per ascendere interamente la trinità bisogna aspettare ulteriori due giorni e arrivare esattamente al 17 di agosto togliendo al 17 agosto i 1335 giorni di cui aveva parlato il profeta Daniele si retrocede la data esattamente a quel 21 12 12 tanto terribile perché secondo il calendario Maya si aspettava un evento epocale è proprio quell'evento epocale che fu descritto in Apocalisse quando in Apocalisse capitolo 12 versetto 6 si racconta che il figlio le fu rapito in cielo e Maria trovò rifugio in un deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio vedete cari voi che mi ascoltate se considerate questi calcoli e la purezza dei numeri che li riguardano e voi li riferite esattamente ai contenuti della Bibbia in cui noi abbiamo proprio la profezia di Daniele Gesù Cristo quando gli chiesero della fine del tempo si riferì esattamente alla profezia di Daniele dicendo che quando vedrete come disse il profeta Daniele l'abominio della desolazione allora comincerà la fase finale e siamo nella fase finale in cui proprio secondo il valore dei testi sacri e questa volta di Apocalisse stiamo vivendo in questi tempi in cui per 1260 giorni Maria sarebbe rimasta in questo deserto stiamo vivendo ancora la presenza virtuale e divina in questo deserto Maria ha trovato rifugio in un deserto e il deserto in cui Maria ha trovato rifugio è il deserto in cui io vivo perché secondo tutti i valori di salvezza che io vi dimostro validi e attendibili e ai quali la cultura umana spocchiosamente non vuole dare in alcun modo alcuna importanza nemmeno quella religiosa che dovrebbe fare dei grandi balzi in avanti nel vedere confermato tutto quello che è descritto nei libri sacri lo dovrebbe ma spocchiosamente volendo sempre credere secondo i concetti della propria interpretazione e non dei valori puri che si rifanno a una matematica sulla cui base Dio ha costruito tutta l'esistenza una matematica espressa proprio in una configurazione in decine così come ha messo a disposizione le nostre mani con dieci dita questo è il segno proprio di un Dio che quando si incarna e si immedesima in un uomo che ha la sua rappresentanza come questa è virtualmente una possibile espressione della mano di Dio abbiamo un Dio che poi di mani ne ha due cioè la destra e la sinistra l'avanzamento 5 e il valore che va a sinistra e riporta il tutto a zero ma io parlo e parlo e parlo in un deserto vero e proprio in cui pochissimi di voi sono scossi come da una corrente elettrica nell'udire le cose che io dico esiste proprio questo annientamento progressivo ma per il potenziale che ha proprio il valore di oggi 8 sapete 8 è la perfezione di un piano divino che presenta 1 più 3 su un lato e 1 più 3 sull'altro è 8 il valore pieno il valore pieno dell'unità è data da 10 unità che sono 11 quando noi componiamo 8 e 11 e abbiamo 88 abbiamo proprio il valore totale 88 e quando consideriamo che l'anno che viviamo ora è il 2000 che in sé è tutto l'avanzamento 1000 di un 1000 e quindi nella pienezza di un 10 al cubo che rappresenta in se stesso la potenza trina di una base divina perché trascende lo 01 nel 10 quando noi immaginiamo tutto questo e dunque nel 1000 lo portiamo come avanzamento del 1000 e esiste un più 14 che è proprio il piano dell'opera intera 7 e 7 ci rendiamo conto che oggi abbiamo espressi dei valori totali 8 è tutta quanta la realtà nel suo valore reale e immaginario è tutta la quantità 16 no non ancora si sommano i 2 4 sono 4 più 4 8 e non sono ancora 4 per 4 16 che porteranno agli anni sono ancora nella dimensione 4 più 4 dei giorni e portano all'otto nel mese di 11 di questo 2014 che vi ho detto perché è così puro quando ci rendiamo conto che rispetto al valore medio che ha ogni giorno in considerazione ogni giorno no ogni anno perché il valore intero su cui noi facciamo i calcoli è il valore dell'anno e quindi quando noi prendiamo il potenziale numerico della data e lo dividiamo per il numero degli anni espressi fino però alla definizione del giorno ossia anno virgola mese e giorno quando facciamo questo vediamo che abbiamo ottenuto un potenziale medio altamente significativo ve l'ho fatto vedere e indica una purezza proprio riferita al giorno di oggi ma stiamo definendo a mano a mano che passano i giorni sempre più questa assunzione di potere che è cominciata virtualmente con la celebrazione dei santi poi dei morti poi dell'unità d'Italia e della forza assunta dall'esercito italiano poi tutto questo si è girato nella forza del padre che esiste e ora vedete si sta dimostrando proprio come tutto quello che è presente in termini di un valore che calcolato fino al limite estremo dei giorni avete visto portava al valore duplice di un dio 26 più 26 che è 66 è il valore in romano ma che si esprime proprio come tutta l'energia 66 sono anche tutti i figli usciti dal sangue di Israele Giacobbe che entrarono in Egitto mogli escluse secondo il capitolo 46 uguale amore in Genesi nel versetto 26 uguale dio ebbene nel capitolo 26 46 uguale amore e 26 uguale dio è descritto chiaramente coloro che uscirono dal sangue di Giacobbe mogli escluse e entrarono in Egitto 66 ma 66 sono gli 11 giuda escluso che portano al 66 perché 11 per tutti i numeri interi contenuti in 11 sono 66 bisogna però considerare che sono 12 e allora bisogna aggiungergli anche il valore di tutti i numeri contenuti al 12 dopo che si è aggiunto nell'11 e allora abbiamo virtualmente che a un 66 si aggiunge un 78 ma 78 è la trinità di dio e allora bisogna aggiungere anche il 26 dell'unità di dio il 26 dell'unità di dio è il nome Anna ma avete visto la distanza che passa riguarda due Anna ma due Anna perché due Anna perché Anna è la consorte cosa volete fa quasi ridere Anna è la sposa di anno e visto che la sposa è sempre la metà per fare anno ce ne vogliono due e poi che la sposa Anna è 26 ci vuole 26 26 ci vuole 52 e sono proprio tutta l'opera di dio perché dio crea in sette giorni e 52 settimane fatte di giorni sono 72 sono 52 volte 7 ossia 364 giorni dunque 365 insomma vedete tutto è chiarissimo tutto io ve lo sto dicendo ma Maria seguita a rimanere in questo deserto e vi rimarrà come scritto in Apocalisse per 1260 giorni che rispetto ai 1335 in cui finisce tutto di cui aveva parlato il profeta Daniele 1260 ha detto 1260 rispetto a 1335 ci sono 335 sono 35 più la distanza tra il 60 e il 100 quindi 40 più 35 75 e che cos'è 75 è il valore totale di tutto lo spazio perché quando la dimensione 4 è 100 la dimensione di un quarto che è il tempo è 25 e lo spazio è 75 ebbene togliere 75 giorni ai 1335 di cui parlò il profeta Daniele 1335 meno 75 porta ai 1260 di cui è scritto in Apocalisse e rimanda a tutto il periodo in cui durerà la presenza in questo deserto insomma la Bibbia scrive la verità che che ne dicano personaggi tipo Mauro Biglino che si attacca a formalità e non a cose sostanziali da quanto risulta e che io vi dico la Bibbia è perfetta ma anche tutta la realtà è perfetta tutta noi non la vediamo perfetta perché ogni ciclo come una delle monadi di cui ha parlato un grande filosofo che sono una dentro l'altra e che sono come le rotelline di un orologio che sono una dentro l'altra sono intere in un ciclo sempre in tempi diversificati tra di loro per fare un giorno bastano 24 ore ma quando avremo un anno intero per avere un anno intero dovremo averne quattro perché uno avrà valenza di tempo e tre di spazio e occorreranno quattro anni per avere un giorno in più perché tutti quelli che sono presenti in un anno sono repliche del primo anno del primo giorno repliche e non giorni nuovi sono repliche il giorno nuovo nella creazione di Dio implica dopo il primo quattro anni e poi il giorno nuovo ancora che è aggiunto implica ancora 157 anni per avere tre giorni di creazione nuova giorni nuovi e non repliche dei giorni già creati prima ma l'uomo quando sente parlare che Dio crea in sei giorni e uno riposa arriva a credere che questi tre giorni sono uno, due, tre no implicano per esserci tutti e tre 157 giorni e 157 è proprio il valore dello Spirito Santo ma poiché il valore esatto non è 157 ma è 157,222 4041 il che è ottenuto dai minuti secondi rotti che esistono in ogni anno che sono 549,54 se ogni anno c'è solo questo piccolo valore in secondi quanti ne occorrono per fare un giorno e allora si divide esattamente gli 86.400 secondi che esistono in un giorno per i 549,54 e viene fuori un valore che è 157 uguale Spirito Santo virgola 222 che corrisponde a figlio 222 e è un figlio che è nella stessa dimensione binaria del padre che è 222 e lo stiamo vedendo proprio che questi sono i tempi medi che esistono nel riferimento dell'anno il riferimento intero medio è 0,0222 sono 222 unità decimillesime lo vedete e tutto questo ha una sua logica di corrispondenza precisa esatta se non si considera la Bibbia per le vere cose che sono udite ma per le altre beh insomma quando noi andiamo a calcolare quanti primi e secondi espressi tutti nei secondi esistono in un anno e per avere questo anno dobbiamo avere un numero di anni di 157 virgola 222 4041 il 157 è proprio il valore numerico di padre figlio spirito santo no di spirito santo soltanto il valore intero è il 157 che corrisponde a spirito santo nel valore numerico del termine spirito santo mentre il valore 0,222 trascende il figlio il valore che segue dopo 40 è il valore esatto del termine padre e abbiamo fino ora spirito santo figlio e padre c'è un 41 in più e che cos'è questo 41 in più è il valore dello spirito santo che in 41 è il padre 10 sommato alla sua unità dello spirito santo e 40 più 1 41 diventa il padre spirito santo ma diventa anche il termine amor e quando si volle dare un nome da parte di quel grande cristiano che è stato santo maso d'aquino che non era soddisfatto del termine spirito santo e lo voleva definire lo definì proprio con il termine amor e amor è 41 nei riferimenti dello spirito santo amor cosa vale lo vogliamo calcolare che cosa vale il termine amor 41 quando spirito santo è 157 facciamolo questo calcolo vedete spirito santo è nel linguaggio alfabetico la corrispondenza al valore numerico delle singole lettere espresse da 1 a 21 come dalla a alla z in un modo tale che spirito è 96 e santo è 61 96 più 61 è 157 e 157 è spirito santo mentre amor che è dato da 1 nella a 11 nella m 13 nella o e 16 nella r è 41 ebbene dividendo lo spirito santo per amor cosa risulta risulta 3 con resto di 34 perché 3 per 1 3 3 per 4 12 41 per 3 fa 123 che da 157 rivela un 34 indivisibile per 41 ed è un resto che sono le 33 unità di Cristo ecco vedete capite che il 3 assoluto in amor perché è in 41 più 34 di resto possa essere un 300 perché il 3 assoluto è 300 più 34 di resto che diventa 300 più 34 uguale 334 lo capite capite che 66 più 78 più 26 più 51 più 113 uguale 334 possa essere proprio il valore numerico di Romano 66 Antonio 78 Trinità di Dio 26 26 uguale Anna uguale Dio 51 uguale Paolo 113 uguale Torquato il totale dei miei 5 nomi come le 5 dita di Dio è proprio nel segno della unità sommato a 333 della Trinità ma capite tutto questo laddove il 334 esaltandosi nella potenza 1 e Trina del 4 valga 300 più 3 elevato a 4 che in valore rimane sempre 3 3 4 ma il 4 è elevato alla base Trina e allora diventa 381 ed è proprio il 381 che somma ai 5 nomi il cognome 47 Amodeo vedete anche Amodeo è compreso nei 5 nomi a condizione che il 334 si eleve come 300 più 3 elevato a 4 capite che tutto questo accade ove amor possa essere amo in Amodeo la trinità su cui si basa la parola Amodeo e l'unità su cui si basa la parola romano in un suo possibile acronimo quando noi abbiamo nome e cognome come acronimo e allora abbiamo un acronimo a tre dimensioni in Amodeo e un acronimo a una dimensione in romano abbiamo esattamente amor ma questo valore come vedete è esattamente uguale a 334 che è un valore esattamente legato al 66 di romano perché quando l'unità trinità è 4 ed è un valore assoluto allora è 400 ma se dentro questo 400 ci mettiamo un primo che è 66 quanto si muove 66 nel 400 se non 400 meno 66 uguale 334 vedete in questo nome straordinario il valore di 1 il primo nome 66 è il valore di tutti e 5 è straordinario ma il valore 66 è il valore di tutti e 5 quando è il movimento del primo nel valore assoluto 1 e trino che è 400 tutto questo non è che da vedere che da osservare e questo 157 che è spirito santo e questo 41 che amor si presenta tutto in questo calcolo che io vi mostro ora quando noi dividiamo gli 86 400 secondi di un giorno per tutti i secondi rotti che esistono in un giorno e sono 549 54 esattamente nell'anno siderale ossia quello rispetto alle stelle fisse abbiamo che occorrono 157 virgola 222 40 41 anni per avere un giorno in più e per avere il terzo giorno occorrono dunque i 157 come valori interi che sono proprio il valore alfabetico di spirito santo se voi fate la somma di 17 più 14 più 9 più 16 più 9 più 18 più 13 per quanto riguarda spirito avete 96 se aggiungete 17 più 1 più 12 più 18 più 13 uguale 61 uguale santo 96 più 61 uguale 157 esattamente spirito santo il valore 40 che vedete nel numero 157 virgola 222 40 41 è proprio uguale al valore padre se calcolate che la p vale 14 la a 1 la d 4 la r 16 e la e 5 padre vale 40 41 amor è dato da 1 più 11 più 13 più 16 quindi vedete che rimane soltanto da definire esattamente quel 222 ma in questo video vedete che il 222 è proprio il valore medio negli anni che esiste ora in questa data qui che è 0,0222 decimillesimi ebbene questo valore 0,222 a che cosa è uguale? è uguale a 100 che è il piano assoluto diviso 454 virgola 450 virgola 450 450 450 è un periodo eterno che è sempre 450 dunque poiché il denominatore è il valore è il valore inverso lo 0,222 è uguale all'eterno 450 inverso a 100 ossia posto come denominatore come divisore così come 0,54 è l'inverso di 450 sì o no? tanto che l'inverso dell'inverso è uguale e allora che cosa è uguale? a 54 perché 0,54 è 54 e 54 è uguale a figlio vedete per cui dentro il termine in cui tutti i minuti secondi di tempo rotto presente in un anno per trovare il loro valore intero bisogna dividere un giorno composto in secondi e sono 86.400 proprio per i secondi rotti esistenti in un anno tanto da sapere quanti ne occorrono di secondi rotti e quando quelli che occorrono sono proprio nella forma per fare un giorno con i secondi di 157 222 40 41 avete la prova di come le corrispondenze alfabetiche sono le stesse corrispondenze numeriche perché per fare il terzo giorno occorrono proprio spirito santo padre figlio trascendente e amor e quando avete questo valore qui e avete che il valore definitivo finale 41 è la valenza dell'amor che quel grande santo definì lo spirito santo quando andiamo a vedere il 41 nel 157 e scopriamo che ce ne sono tre con il resto 34 abbiamo proprio il 334 che esprime non solo amo R ma tutti e sei nomi e cognomi di Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo lo so è imbarazzante da parte mia perché io devo sempre rivelare qualcosa di grandioso che esiste in me e che con il mio personaggio non ha proprio nulla a che spartire però è in questo modo invisibile a tutti e incomprensibile da tutti che si è nascosta in un deserto la donna che è descritta in Apocalisse che attualmente è ancora nascosta in questo deserto che è attuali Grazie a tutti